Gossipitavip, se lo sussurra, lo svegliamo. Il monologo di Antonio Scurati è diventato oggetto di controversia politica dopo che la sua presenza alla trasmissione che sarà con Serena Bortone è stata annullata. La conduttrice ha letto il testo bloccato dall'azienda, ricevuto gratuitamente da Scurati stesso, in risposta alle dichiarazioni della premier Giorgia Meloni sull'annullamento per motivi economici. La decisione di non trasmettere il monologo su Rai 3 ha suscitato polemiche, con l'opposizione che grida alla censura. Il testo è diventato virale ed è stato condiviso anche da Meloni, mentre la Rai respinge le accuse di Beto su Scurati, attribuendo l'annullamento a questioni contrattuali ed economiche. Scurati ha risposto alla polemica, sottolineando la falsità delle accuse sulla sua richiesta economica e l'estensione del suo impegno. Meloni ha ammesso di non conoscere la verità sull'annullamento ma ha sollevato dubbi sulle motivazioni economiche. L'opposizione e alcuni esponenti politici hanno chiesto spiegazioni dettagliate all'azienda pubblica, sollevando interrogativi sulla presunta richiesta economica di Scurati e sulla natura della decisione di non trasmettere il monologo.